Siamo qui oggi a Bardonecchia a presentare questo piano territoriale integrato, Cuore delle Alpi, è un piano territoriale integrato molto importante, è un piter al cotrà. Perché è importante per la città metropolitana? Beh, la città metropolitana intanto è l'unica città metropolitana che confine con un paese straniero, quindi con la Francia. Qual è il valore aggiunto? Sicuramente il fatto di lavorare in rete. Si parte quindi dai comuni, i piccoli comuni, ma si guarda al globale. Questo sicuramente è un punto di forza di questo progetto che va sostenuto da tutti. Noi crediamo che la qualità della vita possa andare di pari passo con lo sviluppo economico. Quindi qui non si tratta solo di turismo, si tratta anche di pensare all'artigianato, si parla di sicuramente infrastrutture, si parla anche di messa in sicurezza del territorio. È un progetto ambizioso, ma è un progetto che parte appunto dal basso e da quelle che sono le vere necessità di questo territorio. Siamo sicuri che questo progetto potrà essere anche un progetto portato ad esempio nell'Unione Europea. Questo si può considerare come veramente l'esempio di quello che è l'Unione Europea, cioè la collaborazione trasfrontaliera.